Buongiorno, ben trovati lunedì 25 febbraio 2019, primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi ovviamente grande spazio nella seconda parte allo sport come ogni lunedì andremo a vedere i servizi delle partite delle squadre abruzzesi di serie D ma parleremo anche del Pescara, del Teramo Pescara che tornerà tra l'altro in campo domani nel turno infrasettimanale di campionato a Benevento ma andiamo per ordine, iniziamo con il centro, la prima pagina dell'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda la cronaca, un grave incidente di sci avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Passo Lanciano vedete schianto con gli sci, grave 25enne, giovane finisce contro la recinzione, batte la testa a una pedana a centro pagina vi dicevo il lunedì dello sport, gol e record, Pescara ai piedi di Mancuso il bomber biancazzurro con la doppietta segnata nella gara con il Padova ha raggiunto quota a 15 davvero un esploit fondamentale per il Pescara e per il giocatore di proprietà della Juventus come detto domani ci sarà la gara difficile in casa del Benevento si tratta di uno scontro proprio in chiave e playoff, vediamo le cronache da Pescara e provincia i danni dopo la bufera di vento, le dune di sabbia ricoprono la riviera e poi torna l'allarme smog valori alti per due giorni e poi ancora Pescara verso il vuoto, si guarda alle amministrative Sindaco, la Lega insiste, la scelta spetta a noi a proposito di politiche vediamo in alto due notizie, la prima che riguarda la nostra regione la giunta Marsilio deciderà Salvini, voglio quattro assessorati il Carroccio pronto a fare la voce grossa e a proposito di regionali ieri il voto in Sardegna questa mattina nella regione a statuto speciale inizierà lo spoglio anzi per meglio dire è già iniziato, Solinas della Lega in vantaggio poi Zedda del centro-sinistra, Movimento 5 Stelle giù e questa sarebbe una notizia che farebbe il pari con quanto accaduto in Abruzzo qualche settimana fa con un dato sicuramente negativo per i pentastellati torniamo allo sport, vediamo un titolo che riguarda la Serie A di calcio Juve-Napoli colpi esterni, Inter 3-3 al centunesimo minuto e tanta rabbia e poi calcio a 5, Acqua e Sapone la sfida con il Napoli per la fuga e poi il basket la Serie B maschile con l'amatori Pescara che vince batte in trasferta ancora per 81-69 e si concentra sulla Coppa Italia vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto lo stesso titolo di apertura riguarda il grave incidente di ieri a Passo Lanciano vediamo anche le altre notizie, Chieti arrivano 98 mila euro per rifare il corso Corso Maruccino e poi Vasto, treni troppo rumorosi, protesta la Marina Ortona Bed & Breakfast contro la Regione, tasse, tante tasse per noi lo sport con il Chieti che vince in casa con la Torrese e ipoteca la Serie D bastese travolta in casa della Savignanese e dunque torna a farsi difficile la situazione di classifica dei Biancorossi di Montani vediamo anche un titolo che riguarda il basket con il Chieti Basket che suona la nona e consolida il secondo posto nona vittoria consecutiva per la formazione del presidente Marchesani siamo alla prima pagina di Teramo del centro scontro frontale grave una donna Teramo schianto fra due auto sulla strada statale 80 a Piano Daccio feriti anche due giovani vediamo anche le altre notizie Giussi è stata abbraccata per una notte intera il tentato omicidio di Tortoreto migliorano fortunatamente le condizioni della giovane e poi Giulia Nuova al voto Nozica Cameli sì mi candido a sindaco e poi sentenza per un Teramano risarcito dopo cinque anni di cassa integrazione vediamo il basket partendo lo sport partendo dal basket con il riscatto del Roseto che supera Udine sale a quota 22 in classifica serie D Giulia Nuova ribaltato sul campo del Sant'Arcangelo giallorossi che vincevano per 2 a 0 battuti per 3 a 2 colpi esterni di Notaresco e Pineto in Molise Notaresco che passa a campo basso Pineto che dilaga in casa dell'Isernia vediamo anche un'altra notizia in basso tasse i maghi maxi evasori in Abruzzo intascano 12 milioni solo 2 su 100 in regola la denuncia di una associazione che ha comunicato e che ha reso noto i dati di questa inchiesta di questa indagine siamo alla prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona scuole 32 sono ancora nei Masp L'Aquila ancora tutto fermo a 10 anni dal sisma il comitato eppure ci sono 44 milioni San Benedetto dei Marsi Caso Dorazio sub scandagliano il fiume poi Scurco la Marsicana muore dopo la caduta i parenti chiedono le indagini e poi a Sulmona il Caso Giunta crisi niente accordo il PD ora alza la posta vediamo lo sport con l'Avezzano che nel derby l'unico derby di giornata in Serie D va a K.O. a Francavilla Rugby Serie A l'Aquila prepara il primo degli spareggi Salvezia vediamo anche una notizia che riguarda il volley il volley di Serie A2 Siego sconfitta ma per Simoni c'è il sì di Giulia e dunque Simoni sposerà Giulia noi andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero vedete il titolo di apertura Pescara città dei cantieri ha riaperto sabato la nuova via Trieste da oggi doppio senso in corso Vittorio Emanuele partirà a giorni la riqualificazione via Firenze tre fronti di lavori anche a Porta Nuova vediamo ancora Tortoreto Giussi migliora proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto prima del triste fatto di cronaca ma come detto migliorano le condizioni della giovane e sarà interrogato oggi dal jeep di Teramo Fabiano Cistola il giovane che ha accoltellato la ex e vediamo ancora altri titoli maielletta schianto sugli sci abbiamo visto anche prima dal centro gravissimo ragazzo di 26 anni originario di Brindisi l'Aquila Piazza d'Armi diventerà un parco urbano e poi ancora Pescara Porto nel fascicolo carte a favore di D'Alfonso su questa inchiesta proprio che riguarda Pescara Porto vediamo anche un altro titolo che ci porta ad Avezzano nella Marsica dove c'è il giallo dell'uomo morto nel canale e Chieti nella voragine con la moto parte l'inchiesta e poi andiamo nella parte alta della pagina come sempre ogni lunedì richiami di sport partiamo dal Pescara Pescara Marras che storia da raccattapalle a Fenomeno Serie C Teramo il bomber infantino si porta il pallone a casa tripletta per l'attaccante bianco-rosso nella gara di Ravenna Serie D Francavilla fa su il derby con l'Avezzano Pineto e Notaresco ok vittorie importanti in trasferta siamo all'edicola nazionale iniziamo con il Corriere della Sera ovviamente tutti i titoli incentrati sullo spoglio di oggi per quanto riguarda le regionali in Sardegna nella tarda mattinata si inizieranno ad avere i primi risultati ufficiali ecco qui comunque gli exit poll dicono già qualcosa Sardegna caduta dei 5 Stelle centrodestra avanti ma per la presidenza è testa a testa con Zedda del centrosinistra il movimento 5 Stelle sotto il 20% più che dimezzato rispetto alle politiche la Lega la Lega di Salvini non sfonda nell'isola vedete poi più in basso la condanna di Francesco ha annunciato un motu proprio il Papa e il mostro pedofilia proteggiamo i piccoli dai lupi dunque prosegue la battaglia di Papa Bergoglio contro gli scandali sessuali all'interno della Chiesa vediamo ancora un altro titolo ci porta a Roma metrò lo scandalo della stazione chiusa da 4 mesi dopo l'incidente della Scala Mobile ricorderete quando rimasero feriti dei tifosi russi che erano arrivati del CSKA Sofia scusate Bulgari che erano arrivati a Roma per seguire una partita della loro squadra da quel giorno sono passati 4 mesi e la Scala Mobile non è stata riparata e la stazione del metro di Roma della fermata Repubblica è ancora chiusa vediamo Repubblica voto in Sardegna schianto dei 5 stelle Exipol testa a testa destra e Zedda stesso titolo stesso tenore del titolo del Corriere della Sera e anche su Repubblica vediamo il Papa mai più omertà sui pedofili Francesco annuncia regole definitive contro gli abusi vediamo anche il caso di Giulio Reggeni la famiglia indagata ancora ecco chi bisogna interrogare famiglia che chiede di proseguire con le indagini il fatto quotidiano Sardegna la sinistra insidia la destra altro crollo del Movimento 5 Stelle Solinas fra il 37 e 41% della Lega Zedda 36-40 dunque un testa a testa oggi come detto è iniziato da poco lo spoglio e in tarda mattinata avremo i primi risultati il messaggero nazionale centrodestra avanti crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna e poi Brexit l'Unione Europea pensa ad un rinvio al 2021 e poi un altro titolo alunni Novax niente scuola fino ai 14 anni vediamo anche il mattino di Napoli 5 Stelle il crollo continua Sardegna agli exit poll centrodestra avanti sul centrosinistra i grillini sotto il 20% vediamo anche il sole 24 ore Prato capitale italiana del gioco in Toscana il record con 672 euro di spesa pro capite per i giochi e poi effetto consulta da Napoli a Messina città vicine al default siamo a Libero i verdetti dalla Sardegna grillini moribondi la Lega avanza questo è il titolo di Libero vediamo anche la stampa di Torino la Sardegna abbandona i 5 Stelle regionali la Lega non sfonda e per la presidenza è testa a testa tra centrodestra e centrosinistra il tempo di Roma in 26.000 per 258 posti da infermiere clamoroso al bando dell'ospedale Sant'Andrea di Roma che ha raccolto un esercito di aspiranti e poi vedete anche la la fotonotizia di prima pagina rinnovamento Zingarelli scusate Pisapia capolista a Roma e vedete la foto con il candidato presidente della regione Lazio Zingaretti dunque parliamo di centrosinistra e di due candidati che potrebbero vincere le rispettive elezioni si parla appunto di Pisapia in Lombardia e proprio dell'esponente del PD romano nel Lazio vediamo anche la verità Baborenzi vi versava i soldi per pagare i lavoratori in nero le accuse del super testimone che viene ascoltato è stato ascoltato dal quotidiano la verità vediamo anche il secolo.it Franco tiratore così Parigi sfrutta l'Africa e pratica signoraggio con la moneta coloniale lasciamo l'edicola nazionale torniamo ai quotidiani abruzzesi ripartiamo dal centro da pagina 2 da questa inchiesta sugli evasori dell'occulto i maghi abruzzesi non fanno le fatture sono 350 guadagnano 12 milioni l'anno ma solo 2 su 100 dichiarano i proventi al fisco un'associazione però li scopre vedete in questo grafico i maghi abruzzo 350 gli operatori dell'occulto 140 in provincia di Pescara 90 nell'Aquilano 70 in provincia di Chieti 50 in provincia di Teramo con 25 mila clienti e il volume d'affari che si aggira sui 12 milioni vediamo anche le tariffe così chiamate un colloquio 40 euro la lettura delle carte 150 il malocchio togliere il malocchio può costare da 500 a 900 euro filtro d'amore 1000 euro seduta mediatica medianica 2000 euro vedete poi in basso parlare con il defunto costa 2000 euro per togliere il malocchio abbiamo visto prima se ne spendono 900 ma non esiste un tariffario standard siamo alla politica il nuovo governo regionale giunta Salvini a Marsilio Salvini scusate a Marsilio per quanto riguarda la giunta abruzzese a noi quattro assessori stop della Lega Forza Italia oggi il passaggio di consegne dopo il presidente incontrerà Pagano Ezzelli Pagano coordinatore regionale di Forza Italia Ezzelli coordinatore regionale di azione politica perché anche azione politica rivendica un assessorato parliamo anche di sanità le nomine della sanità manager ASL 30 domande per due posti per i nuovi direttori generali delle ASL di Chieti e L'Aquila deciderà il presidente della regione Marsilio nella lista nazionale degli idoni numerosi volti noti in Abruzzo siamo alle cronache dalle province partiamo da Pescara dopo la bufera di vento del weekend la rivera invasa dalla sabbia inizia l'opera di rimozione e poi a Montesilvano stesso problema oggi al lavoro una ditta esterna verso le elezioni comunali a Pescara sono già partite le grandi manovre nel centro-destra la Lega insiste il sindaco sarà dei nostri e intanto Costantini si è candidato l'ex esponente dell'Italia dei Valori e consigliere regionale si è candidato con una lista civica e il centro-sinistra continua a corteggiare proprio Costantini e vediamo poi in settimana ci sarà il cambio inciunta a Pescara perché Antonio Blasoli attuale vice sindaco ma nominato consigliere regionale dovrà lasciare Palazzo di Città al suo posto arriva Antonio Natarelli a lui la delega ai lavori pubblici era stato il nome che era stato fatto proprio per la sostituzione di Blasioli PD migliaia al voto il 3 marzo per scegliere il neo segretario vedevamo prima il titolo sul tempo di Roma per quanto riguarda le primarie anche nel PD vedete Nicola Zingaretti Maurizio Martina e Roberto Giacchetti il PD abruzzese appoggia soprattutto i primi due dunque ci sono le opposte fazioni che stanno facendo la conta dei voti torniamo lasciamo la politica parliamo dei concorsi di attiva irregolari bloccateli lo dicono il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara Marcello Antonelli e Dincecco neoconsigliere regionale della Lega che denunciano anomalie nei bandi e chiedono di modificarli vediamo anche la prossima pagina sempre Pescara torna l'incubo smog la città per due giorni con i valori alle stelle nonostante il gran vento ma soprattutto questi valori si riferiscono proprio ai primi giorni della settimana passata quando il vento non c'era ma soprattutto c'era un po' di nebbia a Pescara che ha favorito proprio il ristagno dell'aria vediamo anche il progetto Vivere Digitale a Terno Mantone formazione gratuita con Facebook e poi i lavori in città a Pescara finiti su Corso Vittorio Emanuele che torna nel doppio senso vediamo poi in basso al Parco della Libertà piantato un fragoleto per i cani Orsini consulta stranieri modello di accoglienza siamo a Montesilvano dove il consigliere comunale difende il regolamento approvato in aula strumentalizzano la pubblica opinione attacchi da destra anche a Maragno da Montesilvano a Penne la giornata del pensiero i scout della Gesci invadono Penne per questo raduno regionale carnevale d'Abruzzo a Francavilla freddo coriandoli e tante mascherine grande pubblico per la prima sfilata dei 5 carri le chiavi della città Patanello poi il concerto dei Regina andiamo a vedere anche questo titolo in basso che ci porta a Popoli dove nasce l'albo degli avvocati la giunta approva l'atto di indirizzo per creare l'elenco e poi una notizia luttuosa che ci porta a Pianella tanta commozione in paese per la morte di una cinquantenne siamo a Chieti la notizia che riguarda il grave incidente di sci avvenuto ieri a Passo Lanciano si schianta con gli sci grave un 25enne alle prime armi finisce contro la recensione della pista e batte la testa ad una pedana dello snow park non rischia la vita ma le condizioni sono comunque gravi e il giovane è ricoverato è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara ed è comunque in prognosi riservata consiglio comunale a Chieti ecco la lista dei creditori oggi debiti in aula dai 50 euro per i manutentori alle società che non riescono a pagare gli stipendi vediamo la prossima pagina siamo ancora a Chieti arrivano 98 mila euro per rifare Corso Marucino la via principale del capoluogo Teatino che è il progetto esecutivo per ristrutturare il secondo tratto della strada Lanciano pista ciclabile sotto inchiesta stop allo spreco dei soldi e poi Ortona i BNB non siamo imprese commerciali protestano le attività ricettive contro la legge regionale che le sottopone a costi maggiori andiamo a vedere la pagina dell'Aquila ma in particolare siamo nella Marsica San Benedetto dei Marsi sub scandagliano il fiume Giovenco si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Collinzio Dorazio si cercano altre prove la svolta ci sarà dopo l'autopsia e dunque ci sono le indagini sulla morte di quest'uomo di 51 anni e a Scurcola Marsicana muore dopo la caduta donati gli organi per i carabinieri si è trattato di una disgrazia ma i parenti di Enzo Morgante chiedono indagini per approfondire quello che è accaduto e per ricostruire quello che è accaduto appello di Donatelli dell'Ascom il sindaco ci ascolti per fermare la crisi del commercio e poi un volto noto della RAI scomparso di recente si tratta di Gabriele e la porta molti lo ricorderanno soprattutto nelle trasmissioni notturne della RAI verrà sepolto a Capistrello andiamo avanti siamo all'Aquila sisma del 2009 la ricostruzione al palo scuole ancora 32 gli istituti nei MUSP l'Aquila su 36 edificati dal 2009 non si è mosso nulla Silvia Frezza del comitato dice eppure sono disponibili più di 44 milioni di euro questo è il titolo di apertura vediamo poi in basso a Sulmona nuova giunta prima fumata nera la crisi in comune non si è risolta troppe pretese da parte del PD e il parroco di Pianola siamo di nuovo nell'Aquilano sfiorata la tragedia ha detto proprio il parroco il vento forte ha fatto cadere l'albero vicino alla chiesa biondi e imprudente riaperte due strade grossi danni per il vento non solo sulla costa ma soprattutto nelle aree interne della nostra regione siamo alla pagina di Teramo Teramo provincia a quanto accaduto a Tortoreto due giorni fa con il tentato omicidio ha braccato Giussi per tutta la notte l'ex fidanzato ripreso dalle telecamere spunta la testimonianza di una ragazza mi ha seguito in auto credendo fossi lei intanto sono migliorate le condizioni della 39enne provincia l'area tecnica è in difficoltà il dirigente Cozzi si mette in ferie il presidente personale allo stremo l'ente va subito riorganizzato detto il presidente della provincia di Teramo Diego di Bonaventura da Teramo ci spostiamo a Giulianova verso le elezioni comunali Nausica Cameli si candida a sindaco sarà sostenuta da due liste civiche vediamo anche la seconda pagina dedicata a Teramo e provincia frontale fra due auto grave una donna drammatico schianto sulla strada statale 80 le porte di Teramo a Piano Daccio davanti al supermercato Oasi feriti anche due uomini Asle controllo dei nei fissati al 2021 protesta un anziano mio figlio malato è costretto a farsi visitare a pagamento e Pineto è capitale diventa capitale dello sport per disabili al via una settimana di eventi intorno al raduno della nazionale di ciclismo paralimpico che si terrà proprio a Pineto siamo arrivati allo sport dobbiamo però andare a vedere le pagine interne del messaggero partiamo da Pescara su Corso Vittorio torna oggi il doppio senso vedete il titolo di apertura e poi Restart Movimento 5 Stelle l'individuo al centro 300 attivisti ripartono dalle origini intanto a proposito delle amministrative di Pescara Costantini Carlo Costantini che si era candidato ufficialmente nei giorni scorsi prende nuovamente le distanze dal partito democratico watcher antipovertà bando comunale per le famiglie disagiate questo sempre a Pescara mentre a Penne ci sono stati i raduni a Pescara e Penne per meglio dire i raduni in memoria del fondatore degli scout Robert Baden Powell vediamo la pagina dell'Aquila dell'Aquila provincia piazza d'armi via i sondaggi siamo nel capologo di regione sostanze si cercano sostanze inquinanti l'ex sito di stoccaggio delle macerie dovrebbe diventare un parco urbano e poi Carnevale sfilano i carri piazza invasa dai bambini all'Aquila centro turistico assolto l'ex presidente Comola in basso eventi per il decennale dal terremoto si parte a inizio aprile e poi il maltempo dicevamo che ha colpito anche l'Aquilano alberi divelti dal vento riaperte tutte le strade all'Aquila Dorazio oggi l'autopsia resta il giallo siamo ad Avezzano il caso del 51enne per meglio dire a San Benetto dei Marsi ritrovato nel canale del Fucino denominato Piccola Cinta fino alla tarda serata di ieri non erano stati consegnati avvisi di garanzia il dubbio in quelle acque ci è stato buttato e dunque ci sono le indagini per capire come sia finito nel canale Collinzio Dorazio ritrovato proprio su questo canale del Fucino e abbiamo visto anche prima dal centro che gli investigatori stanno anche non prendono anche in considerazione l'ipotesi di un omicidio Scurcola Scurcola Marsicana deceduto il settantenne caduto per le scale Pescasseroli niente soppressione del circolo didattico del centro del parco nazionale d'Abruzzo andiamo nella parte bassa della pagina partiamo da Sulmona con le trattative frenetiche pronta la giunta Casini e poi Avezzano al trato dei Marsi la figura di Attilio Cecchini notissimo avvocato abruzzese poi Sulmona ancora code a laboratorio analisi l'ira degli utenti nella Marsica per il maltempo sono stati nell'ultimo fine settimana 200 gli interventi siamo alla pagina di Chieti e di Chieti provincia sempre dalle colonne del messaggero con la moto nella voragine inchiesta aperta dopo 4 anni due giovani finirono in un burrone non segnalato a San Vincenzo di Vacri le vittime riportarono ferite gravi con danni permanenti nel fisico e poi Lanciano risarcimento all'arieco chiesta la testa di Pupillo e poi Vasto sportedisabili armattioli tennis tavolo con il campione Ortona ricorda Fulvio della loggia l'ex sindaco cerimonia con l'arcivescovo e poi la notizia che abbiamo visto anche in precedenza si schianta sugli sci giovane grave il fatto accaduto a passo Lanciano andiamo a vedere la pagina di Teramo violenza sulle donne i casi in aumento esponenziale i dati dei tre centri situati in provincia la maggior parte parte dai 40 ai 60 anni di età è una battaglia che non si può vincere da sole serve l'aiuto di tutte le istituzioni e intanto a Giulianova la Camellia annuncia la lista con un duro attacco a Soldà si candida per le amministrative nella città di Giulianova alba driatica raffiche di vento la sabbia in Pineta e poi l'incidente è accaduto ieri a Piano Daccio schianto frontale grave una operaia 39enne Teramana e coltellate alla ex oggi Cistola dal GIP deve rispondere dell'accusa vedete il titolo di tentato omicidio siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport allora prima di fermarci per qualche attimo possiamo andare a vedere proprio le prime tre pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla Gazzetta dello Sport Inter un abisso di rabbia rigore viola al centonesimo Spalletti esplode di rabbia Inter fermata sul 3 a 3 all'Artemio Franchi di Firenze Nerazzurri che erano in vantaggio per 3 a 1 vediamo anche i risultati in questo specchietto della Gazzetta dello Sport i risultati della Serie A venticinquesima giornata Milan Empoli giocata venerdì 3 a 0 i due anticipi di sabato Torino-Atalanta 2 a 0 Frosinone-Roma 2 a 3 e poi le gare di ieri con Sampdoria-Cagliari 1 a 0 Bologna-Juventus 0 a 1 Chievo-Genua 0 a 0 Sassuolo-Spall 1 a 1 Parma-Napoli 0 a 4 come detto Fiorentina-Inter 3 a 3 Lazio-Udinese rinviata in classifica le prime posizioni Juventus 69 Napoli 56 e poi avvincente la lotta per i posti che riguardano la Champions League con Inter 47 Milan 45 Roma 44 più staccate Lazio-Torino e Atalanta con 38 ma la Lazio ha una partita in meno in coda Chievo 10 Frosinone 16 Bologna 18 Empoli 21 vediamo anche il Corriere dello Sport Abisso-Var Abisso è il nome dell'arbitro che ha diretto la gara di ieri tra Fiorentina e Inter e poi invece si parla della Juventus con il gol di Dybala che permette ai bianconeri di passare per 1 a 0 al Dallara e poi Zielischi e doppio Milik e Napolacco con i gol dei giocatori polacchi che hanno permesso al Napoli di superare in trasferta il Parma e poi vedete tutto sport Inter furibonda per il 3-3 con la Fiorentina con il rigore Viola al cento unesimo e poi gli altri titoli Toro da Europa dopo la vittoria con l'Atalanta Napoli super Milik e poi calcio estero Sarri capò i rigori la Coppa di Lega al City Sarri che rischia continua a rischiare l'esonero dalla panchina del Chelsea allora possiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 e parleremo di sport soprattutto in chiave regionale Ed eccoci in studio seconda parte di Mattino 6 ritorniamo al centro parliamo del Pescara come detto domani turno infrasettimanale con i biancazzurri di scena Benevento Mancuse un'annata da record il bomber a quota 15 lo dicevamo prima in rapporto ai minuti giocati e la media gol migliore della carriera migliore anche di quella di San Benedetto quando il giocatore milanese segnò 25 reti lo scorso anno 9 con il Pescara quest'anno 15 fino alla 25esima giornata come detto si pensa ovviamente alla gara di Benevento difficile contro la formazione Sannita che perde in prota per squalifica ma Bucchi in un solo colpo recupera Volta Antei e Letizia vediamo anche in basso Pescara che a sua volta con Pillon recupera Balzano dopo la squalifica Campagnaro è in dubbio per un indurimento muscolare questa mattina ci sarà la risonanza dovesse esserci l'esito positivo l'argentino potrebbe scendere in campo anche al Vigorito se così non fosse sarebbe crediamo Brugman a giocare al centro della difesa con Scogliamiglio e con Balzano e Ciofani sulle fasce ieri il posticipo della venticinquesima giornata con la vittoria di misura in pieno recupero del Livorno con il Venezia la rete di Raicevic al quarantasettesimo della ripresa il Teramo Infantino con la raffica per la salvezza 5 reti in segare per il bomber Biancorosso non abbiamo paura di nessuno mercoledì a Viterbo Biancorossi nel campo per la Coppa Italia intanto a Vicenza si è dimesso il tecnico Serena società Biancorossa che ha richiamato Colella vediamo anche il messaggero come parla del Pescara e anche del Teramo da raccattapalle a nuovo fenomeno in questo caso parliamo di Marras uomo ovunque del Pescara ancora secco di gol ma sicuramente preziosissimo per il gioco di Pillon 23 presenze infatti in 25 giornate il ruolo ovunque il mister mi chieda di giocare darò il massimo e poi l'incredibile storia di Marras a Pescara arrivato come debuttante ora insostituibile Sebastiani siamo lassù e ora ci divertiamo dice il presidente del Pescara e poi in basso cinismo in attesa del ritorno dei tifosi 7 punti nelle ultime 3 partite e bravo Fiorillo e Pillon sta facendo il massimo ma si attende il gran pubblico allo stadio Adriatico e poi il Teramo ne parlavamo anche prima Infantino si prende il pallone Tripletta Benevento e Biancorossi che fanno un bel passo avanti in classifica vedete anche il primo articolo che riguarda la serie D con il notaresco che torna grande e passa per 1 a 0 in casa del Campobasso che era una delle formazioni più in forma del momento la rete della vittoria è stata realizzata proprio allo scadere da Candellori allora possiamo andare a vedere il primo servizio di oggi proprio sulla vittoria della formazione del presidente Di Giovanni al nuovo Romagnoli di Campobasso Il Campobasso perde per mano del San Nicolò notaresco i abruzzessi corsari a Selvapiana legittimamente al novantunesimo i rosso-blu sono scarsamente pericolosi nell'arco della partita e vedono sfumare il pareggio nel finale giornata rosso-blu giungono circa 600 spettatori di cui una manciata da notaresco cerimoniale nel quale il pubblico della Nord ha preparato una straordinaria e toccante coreografia in occasione del decennale dalla scomparsa del capitano di tante battaglie del Campobasso Michele Scorrano compare proprio il volto di Michele e la scritta c'è solo un capitano tutto questo mentre il capitano attuale Danucci accompagna la famiglia sotto la Nord dove avviene l'omaggio floreale con rose rigorosamente rosso-blu cominciano meglio gli ospiti con una conclusione di Moretti in area deviata da uno di casa poi da spostito in calcio d'angolo dopo appena un minuto e mezzo la partita è intensa ma senza grosse occasioni da gol ci prova al 25esimo Minella con un destro in corsa fuori misura al 29esimo da Dalmazzi a Bontà che trova la parata sicura disposito al 35esimo cross di Giacobbe Cogliati si fiona sul pallone con un avversario l'arbitro dice che si può riprendere con una rimessa dal portiere ospite il Campobasso gioca troppo schiacciato merito anche di un avversario giunto a Selvapiana con l'intento di portare a casa i tre punti al 43esimo e Bontà a sottrarre palla Danucci chiedono il fallo i Campobassani Bontà poi calcia molto male e a lato finisce senza gol il primo tempo con le immagini siamo nella ripresa all'undicesimo c'è il destro forte di Moretti respinto da Magri con qualcuno del notaresco che ipotizzava anche un tocco di braccio del difensore del Campobasso ma non vengono ravvisate irregolarità dal signor Cavaliere di Paola Bagatti dal tredicesimo fa entrare Islamai al posto di Salvatori al quarto d'ora e Giacobbe a girare alto con il destro una buona palla gol intorno al diciottesimo in campo anche Musetti al posto di Cogliati nei Rossoblu un solo minuto più tardi il destro di Bontà è destinato al fondo la partita rimane interessante ma il gol questo grande sconosciuto al ventinovesimo a provarci e Bontà con un destro a giro su cui si deve tuffare Sposito la girandola di Cambi non si arresta nei Rossoblu entra anche Antonelli al posto di La Barba replica ospite con Rucci che rileva la ringe al trentacinquesimo in verticale da Danucci ad Islamai che crossa bene presa con brivido in due tempi di Monti gli aggiustamenti di Bagatti fanno sentire i propri effetti al trentottesimo triangolo rapido da Alessandro a Musetti che chiama Monti ad una deviazione in calcio d'angolo sarà una delle palle gol più rilevanti di tutta la partita per il campo basso i Rossoblu soccombono nel finale comandati quattro minuti di recupero al primo dei quali Moretti disegna un bel cross corretto in rete di testa da Candellori preciso l'impatto con la sfera del centrocampista ospite da qui in avanti rimarrà poco da giocare inconsistente la reazione del campo basso che torna a perdere a Selvapiana dopo quattro mesi di imbattibilità per il notaresco è una vittoria che consolida la zona playoff per il campo basso una brusca frenata che allontana temporaneamente il quinto posto e invece resta in piena zona playoff il Francavilla Francavilla spietato vedete il titolo l'Avezzano si arrende i giallorossi partono al piccolo trotto poi nella ripresa mettono in cassaforte la terza vittoria di fila Marsicani KO con onore Francavilla batte Avezzano 3 a 1 il servizio curato per noi Dania Cantagalli terza vittoria consecutiva per il Francavilla che batte 3 a 1 l'Avezzano nel derby Marsicani al primo KO della gestione Colavitto Rachini conferma il consueto 4-3-3 con Banegas il grande ex Dosantos e Mancini in attacco e con il capitano Palumbo in panchina al rientro dalla squalifica stessa formazione invece per Colavitto rispetto alla vittoria contro la San Giustese con Samba in panchina ed il tridente formato da Padovani Bruni e Manari con il compito di provare a segnare è una gara che fatica ad accendersi c'è equilibrio in campo infatti fino alla mezz'ora quando il Francavilla protesta per una segnalazione di fuorigioco sul gol segnato in bello stile da Mancini servito da Bellanca è l'episodio che desta entrambe le formazioni al 31esimo De Roccis apre molto bene per Manari che mette praticamente in porta di Renzo ma il centrocampista controlla male e si divora una iotta occasione al 34esimo il Francavilla risponde con un colpo di testa di Bosco che termina di poco a lato dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Banegas un minuto più tardi però è ancora Vezzano con Manari che prova ad incrociare da posizione defilata con sfera che finisce alta rispetto allo specchio della porta ancora emozione al 36esimo quando Bellanca dalla distanza chiama Fanti alla deviazione con i pugni prima di rientrare negli spogliatoi Samuel di Renzo fa spaventare Spacca che deve allungare il passo per ritare che Padovani approfitti del retropassaggio del terzino giallorosso la ripresa si apre con Dosantos che arma Mancini il suo sinistro ma l'esterno trova pronto Fanti alla respinta al quinto grossa occasione per la Vezzano con una travessa centrata in pieno da crass da calcio di punizione a Spacca praticamente battuto dopo questa ghiotta opportunità il Francavilla colpisce Dosantos riceve il pallone e fa la torre di testa per inserimento di Banegas che con il destro colpisce e porta avanti i giallorossi 5 minuti più tardi i padroni di casa protestano perché Dosantos riesce a toccare un retropassaggio di Pierantozzi con la difesa marsicana in contrasto il pallone poi viene allontanato sulla linea di porta con il Francavilla che chiede inutilmente il gol il pareggio dell'Avezzano però arriva qualche minuto più tardi dai sviluppi di un'azione sulla sinistra Bruni si fa trovare pronto su una respinta per calciare il pallone verso la porta e riportare in parità i marsicani al 34esimo è l'ex Dosantos ad avere la palla buona per rimettere avanti i giallorossi servito da Banegas l'attaccante si lancia verso Fanti che però in uscita riesce a chiudere lo specchio della porta la partita passa nelle mani del Francavilla nei minuti finali al 42esimo Banegas crossa verso l'area con Pierantossi che svirgola il pallone depositandolo alle spalle di Fanti a mandare i titoli di coda ci pensa Dosantos qualche secondo prima dell'inizio del recupero con l'attaccante che tiene fede alle parole pronunciate nel corso della settimana e non esulta contro la sua ex squadra il Francavilla allunga così a quattro gare la striscia utile mentre l'Avezzano dovrà provare a rialzarsi domenica prossima nello scontro salvezza contro il Sant'Arcangelo e questo è il servizio sul derby l'unico derby di ieri nel girone F e noi invece parliamo del momento negativo della vastesia comunque di una sconfitta Batosta Romagnola vedete il titolo savignanese in scioltezza biancorossi di montani in riconoscibili in terra romagnola travolti senza attenuanti bocche cucide squadra e tecnico in silenzio stampa ha parlato solo il direttore generale Masciangelo ma ovviamente il momento è difficile per la formazione biancorossa che continua a viaggiare ad intermittenza con la classifica che resta traballante allora andiamo a vedere quello che è accaduto ieri nel servizio curato per noi da Andrea Costantini dopo le prove d'orgoglio con Re Canatese Isernia la vastese sfodera una delle peggiori prove stagionali sbaglia totalmente il primo tempo incassa due golle si consegna di fatto ad una delle squadre migliori del girone di ritorno la Savignanese che con la vittoria di oggi mette insieme 19 punti nelle ultime 10 partite per la vastese questo 3 a 0 una disfatta che quasi cancella gli ultimi progressi e la timida reazione della ripresa non è stata sufficiente a riaprire i giochi la vastese conferma il 3-4-3 Montagno tiene in panchina stivalette di Giacomo e lancia dal primo minuto Palestini e il debuttante Genny Russo out ancora Mataloni e Giampaolo nella Savignanese assenti Ballerardini Scarponi e Bandi 4-2-3-1 con Francesco Manuzzi prima punta alle sue spalle Longobardi sulle fasce gli attivissimi Peluso e Noschese si capisce sin dalle prime battute che l'approccio della vastese è di quelli peggiori al secondo Longobardi semina il panico in area tiro cross respinto da Patania poi Guidi spreca Montani si sgola da subito dalla panchina ma nulla da fare al quinto la Savignanese già avanti Peluso sfonda facilmente sulla sinistra e mette dentro per il rimorchio di Francesco Manuzzi agevolissimo l'appoggio per l'attaccante dei Romagnoli sulle fasce la vastese non tiene all'ottavo spunto di Peluso e Noschese per poco non ci arriva a quarta d'ora la Savignanese raddoppia su azione d'angolo Patania si supera sull'incornata di Guidi ma nulla apposula zampata in mischia di Giacobbi che ribadisce in rete e firma il suo primo gol in campionato Vastese dunque è totalmente assente mentre i Romagnoli in doppio vantaggio abbassano i ritmi e controllano con facilità le operazioni il primo tiro in porta bianco rosso è l'icone del tutto interlocutorio quando accelera la Savignanese da sempre l'impressione di poter far male al 34esimo taglio verso il centro di Noschese tiro in corsa bloccato da Patania al 36esimo Montani richiama Geni Russo ammonito poco prima e inserisce Cicerello mettendosi a specchio con gli avversari 4-2-3-1 con Fiore a ridosso di Leonetti ad inizio di secondo tempo timidi segnali di ripresa per la Vastese già dopo 20 secondi Leonetti va a prendersi un pallone di forza appoggio per Palestini che sfiora l'incrocio dei pali ma in realtà è un fuoco di paglia tanto che poco prima del quarto d'ora Montani effettua due cambi in rapida successione dentro Sciva per Fiore poi Sante Russo per Capellupo a metà tempo la Vastese si fa rivedere con il cross di De Meio per la girata debole di Leonetti anche Farnetti usa la panchina dentro Brighi e Tamagnini e proprio quest'ultimo chiama Patania ad un difficile intervento per sventare il 3 a 0 dopo la mezz'ora la migliore palla gol per la Vastese con fila via sulla destra Leonetti in scivolata arriva in leggero ritardo all'appuntamento con il gol il finale poi è di nuovo tutto dei padroni di casa e in particolare del bomber Longobardi che al 43esimo va vicino al gol negato lì da Patania poi lo trova al 45esimo grazie al preciso assist di Francesco Manuzzi finisce in tripudio per i padroni di casa per la Vastese teste basse e una prestazione inguardabile da cancellare al più presto vediamo il titolo sul messaggero che riguarda proprio la Vastese Vastese non pervenuta Savignanese passeggia e poi di spalla il titolo invece che riguarda il Giulianova perché non è andata meglio alla formazione giallorossa qualche chilometro più a sud Sant'Arcangelo di Romagna è andato in scena il suicidio perfetto in vantaggio di due gol il Real Giulianova finisce KO nel finale di partita anzi a partita chiusa è stato espulso anche Tozzi Borsoi con Di Paolo infortunato dunque il tecnico Bolzan senza attaccanti per la prossima gara di campionato ma andiamo a vedere i riflessi filmati sulla gara giocata ieri al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo con la testa la Coppa Italia la gara con il Messina il Giulianova privo del suo giocatore di maggior talento Di Paolo perde una partita rocambolesca al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio una ripresa in colore degli abruzzesi è bastata così al volenteroso undici romagnolo per ribaltare il punteggio e incamerare un successo preziosissimo con la squadra di Galloppa ora meno tre dai giallorossi grandi recriminazioni al novantunesimo in casa abruzzese per la direzione arbitrale di Bonacina di Bergamo dopo un avvio equilibrato al primo vero affondo gli abruzzesi passano punizione dalla tre quarti di Del Grosso e palla in area romagnola dove c'è De Fabritis che di testa in mischia sorprende tutti mettendo la palla in rete festa grande per i supporters del Giulianova presenti al Valentino Mazzola al seguito della squadra di Mister Bolzan al ventunesimo proteste giallorosse per un contatto in area locale fra Ragone e Torelli che termina a terra e con l'arbitro che va però ad ammonire l'avanti abruzzese per simulazione il Sant'Arcangelo cerca di reagire ma la buona volontà non basta il gialloglu per arrecare seri problemi dalle parti di Pagliarini fino al ventottesimo quando De Cerchio dei ventimetri mira l'angolino sfiorando il palo di sinistra della porta ospite ma il Giulianova è spietato e alla vera seconda sortita offensiva trova il raddoppio con Tozzi Borseo che inventa e lancia Lenart che davanti a Ragone non sbaglia per il 2-0 per la squadra del presidente Bartolini la gara si mette in discesa con Lenart pericoloso poi anche al trentottesimo con un tiro cross che fa correre un brivido nell'area romagnola nella ripresa prima emozione al secondo con Corvino che su punizione dal limite chiama la parata a terra Pagliarini al sesto De Cerchio in area Giuliese cade a terra in un contrasto di gioco che sembra regolare e con il direttore di gara che tra lo stupore generale segna però il penalty che lo stesso De Cerchio trasforma con Pagliarini che può solo intuire gara che si riapre al Valentino Mazzola dove i locali si rianimano riprendendo ad attaccare trovando al ventesimo anche con Falomi entrato in campo da qualche minuto la rete delle 2-2 con l'ex pescarese che di testa su cross di Fabri sul secondo palo mette la sfera alle spalle del portiere Cialorosso ma la gara non è finita visto che al trentottesimo Fuschi appena entrato sul campo entra in contatto in area abruzzese con Falomi che termina a terra per il direttore di gara Bergamasco ancora a rigore con l'ex pescarese che non sbaglia per il 3-2 incredibile Mavero con il Giulianova prima in vantaggio per 2-0 e ora sotto per 3-2 è costretto nel convulso finale ad attaccare alla ricerca del pareggio che però non arriva per la delusione dei tifosi giallorossi che abbandonano anticipatamente gli spalti e la rabbia di Delgrosso e compagni con l'espulsione a gara terminata di Tozzi Borsoli per protestare E questo il servizio sulla gara sfortunata del Giulianova che mercoledì lo dicevamo anche nel servizio giocherà la gara di Coppa Italia Alfadini con il Messina ma in campionato le cose non stanno andando granché bene per la formazione del presidente Bartolini cose diverse invece notizie positive sono arrivate ieri dal Molise per il Pineto passato per 5 a 1 sul campo dell'Isernia manita per la formazione di mister Amaolo partita senza storia con il Pineto che dunque resta nelle zone alte della classifica andiamo a vedere il servizio dopo il K.O. dell'Aragona di Vasto l'Isernia vive un pomeriggio davvero horror contro il Pineto nel pieno deserto dello stadio Mario Lancellotta privo di tifosi che hanno annunciato la loro assenza attraverso un comunicato nel corso della settimana sugli spalti presenti solo poche unità dirige il signor russo della sezione di torre annunziata strazio che parte al minuto numero 8 per il team bianco celeste esposito tutto solo nel cuore dell'area di rigore gode della libertà di marcare il vantaggio abruzzese concretizzando un assist dalla destra avvio da incubo per l'Isernia che subisce a distanza di poco tempo anche lo 0 a 2 ad opera di Cruz da Silveira che da fuori infila il palo lontano alle spalle di Tano ventitresimo Tomasini dalla distanza fa partire una vera bomba e si inventa un gol straordinario per lo 0 a 3 dagli spalti qualche timida voce lancia l'appello vogliamo in campo i ragazzi di Isernia ventisettesimo prosegue l'agonia sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra Ramazzei si iscrive anche lui alla festa e siamo adesso sullo 0 a 4 parziale che forse neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe pronosticato dopo una scarsa mezz'ora di gioco nell'ultimo giro di lancette del primo tempo timido tentativo di Frabotta parato a terra da Shiba una squadra poco motivata con il morale sotto i piedi con i fischi delle poche unità presenti si chiude la prima frazione di gioco sul porto tecnico di Danilo Scharinci per la ripresa dove l'Isernia trova il golo dopo 180 secondi è Romano ad attaccare lo spazio a battere nell'uno contro uno il portiere Shiba 1 a 4 per i locali che prendono un po' di coraggio Petitti dalla distanza prova a mettere i brividi a Shiba ma ci vuol ben altro poco più tardi il guastatore di turno è Cameni che nel cuore dell'area di rigore con un tentativo acrobatico spedisce il cuoio sopra la traversa non va meglio poco dopo a Marzio che trova la risposta del portiere avversario che blocca in tuffo Pineto che invece punge di ripartenza al 34esimo scatta l'ora del pocherissimo per gli abruzzesi Mazzei Scodella sul secondo palo e Cruz Desiulveira si fa trovare pronto per la sua doppietta personale la zampata vincente a completare il pomeriggio no nel finale ci pensa il palo colpito da Frabotta finisce 1 a 5 giornata completamente da cancellare per la squadra di Mister Silva fondamentale invece già da domani trovare le motivazioni giuste in vista della prossima trasferta al Manuzzi dice Sena nella Tana della Capolista Parliamo ancora di calcio esaurito il capitolo relativo alla Serie D vediamo quello che è accaduto ieri nel torneo regionale di eccellenza con il Chieti che ha battuto la Torrese per 1 a 0 Chieti che ipoteca la promozione con 11 punti di vantaggio sulle seconde vediamo anche gli altri match gli altri risultati delle gare giocate ieri con il Capistrello che ha battuto il Nero Stellati per 3 a 2 De Fino Flacco Porto Pescara Acqua e Sapone 1 a 0 Martin Sicuro Cupello 2 a 6 e poi ancora San Buceto Penne 4 a 0 Spoltore Alba Adriatica 4 a 2 Nereto Paterno 1 a 0 Renato Curi Angolana Miglianico 0 a 1 vittoria esterna dei miglianichesi a Città Sant'Angelo e poi vittoria di misura Casalinga del Ponte Vomano con la Miternina vediamo anche quello che è accaduto nel torneo di promozione partiamo dal Girone B con il Lanciano Spietato che sbanca sul Mona e vede ormai vicino il traguardo della promozione poi ancora Ortona Bagigalupo Vasto Marina 0 a 1 Scafa Val di Sangro 2 a 1 Fater Angelini Pescara Casolana 0 a 1 Casal Bordino River Chieti 1 a 0 Fossa Cesia Sant'Anna 2 a 0 Passo Cordone Raiano 2 a 0 Piazzano Villa 2015 2 a 1 San Salvo Bucchianico 1 a 1 nel Girone A Castelnuovo Pari al Veleno Langizia Luco segna al 97esimo e dunque finisce in parità Castelnuovo Angizia e poi Fontanelle Di Atri Nuova Sant'Egidiese 0 a 1 Borgo Santa Maria Morrodoro 0 a 2 Mosciano Mutignano 0 a 0 Rosettana Pucetta 0 a 1 San Gregorio Real Atria 3 a 3 Montorio Piano della Lente 0 a 1 Mosciano Mutignano 0 a 0 Sant'Omero Tossicia 1 a 2 Torno in parte Sportland Celano 2 a 1 Possiamo chiudere il capitolo relativo al calcio e vediamo il basket quello che è accaduto nella giornata di ieri con il ritorno al successo di Roseto riscatto immediato per gli Sharks che battono 83 a 70 Udine basket in carrozzina la Micacci vince in casa del Santa Lucia vediamo invece quello che è accaduto nel campionato maschile torneo nazionale di serie B con il Chieti che è passato per 86 a 75 sul parquet del Senigallia l'amatori va sul velluto e sempre nelle marche supera Ancona per 81 a 69 vediamo ancora le altre partite si ferma invece la corsa del Teramo Biancorossi battuti in Puglia accorato tanti errori al tiro con la vittoria di Corato per 69 a 58 qui c'è un errore non è 28 ma è 58 il risultato finale che poi è riportato nel grafico della giornata e poi Giulianova una sconfitta onorevole per i Giuliesi sul parquet del Bisceglie che si impone per 78 a 74 vediamo nella serie C Gold la vittoria di Lanciano in esterna a Montegranaro per 71 a 62 e la sconfitta del Magiche Chieti a Fossombrone per 71 a 50 vediamo anche l'atletica con la corsa campestre di Miglianico con l'atleta etiope Adugna che si laurea campione regionale di 10 km primo a Miglianico nella gara valida come prova del campionato a squadre tra le donne vince l'Azzurra di Triathlon Sharon Spimi seconda l'Abruzzese Zulli vediamo anche il ciclismo in basso Cannella primo al trofeo Pasqualini andiamo avanti con il volley e con la sconfitta casalinga della SIECO Ortona che cade per mano della capolista Piacenza 3 a 1 il finale vediamo i parziali 13-25 25-20 15-25 15-25 il centrale ortonese Simoni prima della partita schiere i compagni in campo con la proposta di matrimonio alla fidanzata e almeno per lui è stata una giornata nonostante la sconfitta da ricordare in basso in Serie B il Pineto cade al tie-break buone notizie arrivano dalle donne bene Altino in B1 bene anche Coged e Orsogna in Serie B2 vediamo altre notizie con il nuoto Pennetta vince il titolo regionale nei 200 Rana mentre per chiudere il rugby dopo la sosta l'Aquila in campo domenica contro la Roma per la partita che vale la pool salvezza del secondo torneo nazionale di rugby siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che ritroverete domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo gli appuntamenti della nostra rete per quanto riguarda l'informazione come sempre alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale le altre edizioni alle 19 alle 23 ma a proposito di sport non perdete ovviamente l'appuntamento davvero importante di questa sera con Replay la trasmissione in diretta dei nostri studi condotta da Enrico Rocchi per parlare del Pescara Reduce dalla vittoria con il Padova ma che domani tornerà già in campo alle 18 a Benevento per affrontare la formazione di Mr. Bucchi dunque appuntamento questa sera con Replay domani ovviamente seguiremo la gara dei Biancazzurri con la nostra trasmissione diretta a stadio condotta da Andrea Costantini è davvero tutto grazie e buona giornata Grazie a tutti